Allora ragazzi, dopo essere tornato e aver fatto un po' di mambassa di cose, purtroppo non più di tanto perché abbiamo un po' di cosucce da fare, ma allora dobbiamo, 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 intanto prendere i nostri lingottazzi, poi dobbiamo far che prendere anche questa, prendiamoci anche bene, ci prendiamo le nostre corde, ne abbiamo un bel po' qua e vi dirò poi a cosa ci serviranno, dobbiamo vedere un attimino a cosa ci serve tutta questa roba, no, 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 così, vediamo un attimino anche di prenderci un po' di cosucce e magari riusciamo anche a fare qualcosa, allora, allora, prima di tutto ragazzi, dobbiamo andare esattamente qui, e io direi di iniziare a fare questa ragazzi qua, ok, ci vanno 13 minuti, ok, andiamo a cliccare e ce la prendiamo, ok, e in più possiamo andare a fare la vela, andare a fare la vela, bisogna andare da questa parte, bisogna fare questa tela, per fare questa tela ci servono 5 di questi, allora, per fare quella tela lì, andiamo a vedere un attimino, ce ne servono due, quindi dobbiamo andare esattamente qui, andare su questo e farne una decina, che però ragazzi non abbiamo i soldini, quindi farò una decina di questi, adesso lasciamo così che faccia, e poi andrò a fare questa e farò la vela ragazzi, quando poi sarà il momento mettere la barca, intanto adesso dobbiamo fare anche un'altra bella cosuccia, prima di tutto, no, dobbiamo vedere una cosa, allora, possiamo ingrandire questo, che per ingrandire è questo qua, ragazzi, basta avere questo, che noi li abbiamo, e abbiamo ingrandito, quindi noi andiamo a inserire, questo sono 12 i pesciolini, vedete, e ci va 15 minuti, ok, poi 12 pesciolini, per adesso possiamo lasciarli così qua, andiamo a ingrandire la nostra cosa dell'acqua, quindi possiamo farlo, e andiamo a buttare anche questi, e sono 15 minuti, ok, allora qua siamo già a livello 3, perché arrivo già, dobbiamo arrivare a livello, cioè a livello 2, dobbiamo arrivare a livello 3 ragazzi, per sbloccare altre cose nuove, andiamo un attimo qui, qui siamo a livello 2, che dovrebbe, non è, livello massimo, non credo che sia già arrivato a livello massimo, comunque, siamo, allora qua dovrebbe essere quasi a posto, ok, e la prima c'è, la prendiamo e rimettiamo un'altra, ok, allora, adesso andiamo a vedere un attimino cos'altro abbiamo da poter ingrandire, ma mi sa che non possiamo ingrandire più niente, ho fatto queste due pedane, una di qua, e una di qua ragazzi, per la porcheria, perché almeno così riesco ad agganciare la porcheria, ok, allora, possiamo andare avanti un attimo con il nostro tutorial, che ci richiede di costruire questa, che mannaccia la miseria, non abbiamo le nostre gnappolatrici, ci servono i piudini che ne abbiamo 5, quello non è un problema, allora, andiamo a posare per adesso tutto quello che abbiamo qua dentro, ok, allora ragazzi, dobbiamo ritornare sulle nostre isolette, e però, ah, mannaccia, mamma mia, mi viene ancora lo schifo pensare cosa c'è a? su quelle isole ragazzi miei? ah 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 ah... ah che schifo li vedo, ah 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 già la, già li intravedo, maannaccia, mi viene uno schifo uomae, mi viene, ah, muore che malo malo, tu, maannaccia lo squugo servos, eccolo qua, che schifo, mamma mia, mi viene uno schifo in mane, mi viene, lo schifume lo schifume ok ah che schifo ma perché non mettono degli altri animali mannaccia lo splugo servo che c'è l'invasione e che mizzaca mannaccia lo splugettone dai muorici malo anche tu pistolazza perfetto allora andiamo a prendere questo questo ho già preso allora tu muorici malo anche tu muorici malo zoom ne dove zoom ne dove eccolo abbiamo da prendere queste perfetto ma ancora ce n'è ma porca miseria ragazzi ma cos'è oggi ma c'è il santo ragno ma com'è ok e tu devi morirci malo malo anche tu mannaccia lo splugone ragazzi ho fatto fuori metà della mia vita annaccia la miseria ok un altro po' di sniappolatori viventi l'abbiamo trovati ok perfetto mi è entrato un bel po' di cos'è sì 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 allora tu granchietto muorici malo malo no certe volte lo one shotiamo e certe volte invece zero zero allora io non riesco a capire perché non perché non allora la prima volta che sono venuto qua ho trovato una pianta dove potevo raccogliere e gli ho dato due accettate adesso vedo che non c'è più nessuna pianta che da cui posso raccogliere non so perché non me la farò raccogliere vabbè lasciamo stare ragazzi mettiamo di nuovo la nostra lancia e andiamo ok adesso ragazzi pensate schifino pistolo dobbiamo mettere però le nostre corde qui perché se no ragazzi io li siamo nello spugettino service intanto prendiamo allora allora possiamo prendere questo e fare un altro di questi ne abbiamo nell'inventario vediamo un attimo ne abbiamo ne abbiamo dove sono due dobbiamo fare tre ok qua sta ancora facendo quello che deve fare dobbiamo andare di là andiamo di là troviamo i mattonzoli mattonizoli gli smatonzoli che ragazzi si possono fare mattoni si possono fare con la pietra poi vi farò anche vedere adesso andiamo piano piano con calma perché qua ci sono quelli schifino pezzuoli di ragno e la man mannaggilo cazzo ok uno è morto dai su 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 è che è che in acciaio inox com'è sta cosa ma n'altro ce n'è oh allora ma non vedo l'ora ragazzi di andare nell'altra isola per vedere se ci sono mica ho esciutato subito ok questa cosa ma n'altro ancora mi è capitato su girando così per queste tre isole ragazzi perché adesso stiamo girando solo per queste tre purtroppo per raccogliere vedete purtroppo per raccogliere queste cose devo girare per queste isole no e vi dico abbiamo avuto un po' di casino perché ma no ma ce n'è ancora ma cos'è mi è capitato che mi hanno attaccato in cinque ne ho ammazzati otto otto ragni ho ammazzato in questi qua mi hanno attaccato cinque ragni in un colpo stavo morendo c'è mancato un pelo meno male che avevo le mie wow non ho guardato per un pelino ragazzi guardate un po' la vita ne abbiamo abbiamo quattro di vita su 230 e mi ci vanno tutte no tutte no più della metà mamma mia non avevo guardato un momento ci muoviamo male ok allora vediamo se c'è qualcos'altro un momento ci muoviamo male ragazzi male 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 melo 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 ok allora qua ci siamo qua abbiamo preso tutto andiamo verso la nostra base perché abbiamo comunque da da ingredire da fare altre cose qua intanto ne ha fatto un'altra siamo a tre e con questa andiamo a quattro ok andiamo la su quella lì così ragazzi io alcuni pezzi ve li taglio perché sennò qua diventiamo matti vediamo un attimino intanto di raccogliere quello che c'è da raccogliere dobbiamo anche fare poi l'arancia in metallo adesso l'arancia in metallo la faremo e sicuramente la faremo con ok ok one shot E voilà, però i ragni non li vuoi scerti a mamma mia, ma perché i ragni? Ah, che roba schifo, e voi non immaginate i brividi che ho addosso, mi fanno uno schifo veramente immane proprio. Poi oltretutto non è che ce n'è uno, barra due, no, sette e otto ce n'è, così almeno rischiamo anche di farci, e cazzo ce n'è là in fondo un altro. Ah, ma porca da miseria, oh, una bella tavoletta, bella nuova anche, l'abbiamo trovata, dai vieni che ti spacca, ma un altro ancora, ma cosa sta succedendo? Ce n'è un altro lì? E tu? Non vuoi scelto? Ok. Perfetto, non c'è più nulla, perfetto ragazzi. Bene, allora, torniamocene verso la nostra base e intanto andiamo di nuovo qua e ne facciamo un'altra andiamo a vedere un attimino adesso per fare questo quanti ce ne servono allora, intanto, intanto, intanto andiamo a vedere questa ce l'abbiamo questa ce ne servono 15 di tavolette per adesso ne abbiamo in 20 anni ne abbiamo due due però ne possiamo fare allora abbiamo questa che noi adesso l'andremo a posare perché intanto non ci serve per l'evento quindi l'andremo si ce la facciamo ancora l'andremo a posare vabbè poi vediamo un attimino allora anche con questo prendiamo questo e questo e poi vediamo un attimo prendiamo anche questi e ancora uno di questi poi vediamo un attimino pietre ne abbiamo facciamo così poi vediamo perché se allora abbiamo da prendere l'acqua usa usa usiamo la tutta e facciamo che usare anche questa ok perfetto allora intanto ragazzi guardate vi faccio vedere un'altra bella cosuccia fatemi vedere si può andare a prendere quella ma anche questa roba qua questa mi interessa di avere più andiamo a prendere questa come potete vedere ragazzi mi avvicino molto di più ok poi c'è il doblone ma andiamo a vedere un attimo di là subito perché come potete vedere forse ce la facciamo ancora no non ce la facciamo ancora questo ce l'abbiamo no aah no 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 non mi devi scappare tu non mi devi scappare Perfetto Tu neanche mi devi scappare Come avete visto ragazzi E' molto comoda la pietassa così Perché andiamo su e giù No Ok Allora Ok, lì ci sono delle altre assi Che adesso andremo poi a prendere Intanto No, non ci arrivo Non ci arrivo Dobbiamo andare per forza a prendere Vediamo se No Ma ce la facciamo qua Esatto Perfetto Andiamo Allora Ne abbiamo due Dobbiamo farne 15 di assi Quindi andiamo qua E facciamo Una di asse Una Due Tre Quattro E cinque Ne facciamo un'altra E ne abbiamo sette In tutto Che lasciamo lì un attimo Andiamo a vedere qua Intanto Prendiamo questa E ne mettiamo giù Un'altra Ok Perfetto Abbiamo Da prendere La nostra acqua Perfetto Perfetto Vengano verdi Di nuovo Che ci vanno Esattamente 50 minuti Ogni volta Quindi Ce l'abbiamo dura E devo starli qua dietro Agli assi Così Ok Perché dobbiamo Crearci La nostra barca Per Andare La Esattamente La Perché adesso Me lo fa fare Adesso Me lo fa fare Ragazzi Non so cosa dirvi Adesso Mi fa andare Su quell'isola lì Cioè Mi ha fatto fare Delle cose Che non Ok Ok Mamma mia Però lo schifo Mi mani Ma ce n'è un altro qua Ma porca La miseria Io pensavo fosse Diversa Stai Di zona A me non sembra Diversa Per niente Cussa Slot One Shot No Non c'è nient'altro C'è solo questo E basta Ragazzi Non c'è più niente Che isola Trattiva Eh Lo scuolo attacca La zaga C'è poco qua Non sono sulla zaga Dove lo so Tipistola maledica Tipistola Tipistola Ok Ragazzi Qui E' poca E' poca Ma troppo poca Ma troppo poca Ce n'è qua Siamo arrivati Veramente a un punto Che c'è poca roba Ce n'è veramente Troppo poca Vedete che ogni tanto Mi viene giù qualcosa Non è proprio una cosa Una bellissima cosa Comunque Allora Adesso ragazzi Volevo Fare un attimo Una cosa del genere Andiamo a farla Andiamo a farla questa Ce ne servono Ce ne servono Un in più Ma Ma Come gioco E' carino Vi dico la verità E' carino Molto carino Però Ragazzi Se ci sono solo Queste tre o quattro Isole qua No Direi anche no Perché Non ne vale neanche la pena Ma proprio Non ne vale la pena Cioè Io pensavo fossero Delle Delle isole Un po' più umane Ma Se la cosa sta così No Andiamo questa Facciamo Anche questa qua E vediamo Io Ragazzi Mi porto avanti E Vedo Di riuscire A Prepararmi il tutto Ok Così almeno Vediamo Di riuscire A fare qualcosa Intanto Piano piano Cambierò Anche queste E Una volta Una volta Che abbiamo Il tutto Poi ragazzi Incominciamo Magari A costruirsi La casa Incominciamo A fare qualcosa Piano piano Facciamo un po' Tutto E E Bom Adesso Purtroppo Io mi devo Mettere qui E Andare di nuovo Sulle varie isole A cercare Il materiale Mi sembra un po' Strano Ci siano solo Queste Quattro isole E basta Siamo in un oceano Cioè Non abbiamo neanche Una Una mappa Parlando Chiaro Ma no Ci sono Delle altre Isole Perché Noi siamo Qua Adesso Ok Abbiamo trovato Delle piccole Isolette Che dovrebbero Essere Queste Queste Tre isolette Qua Perché Non mi fa Vedere La mappa Completa Ah 50 Esplorare Effetti Ok Ho capito Ragazzi Come funziona Ho capito Per esplorare Si può Però Il problema È che adesso Non possiamo Ancora Ancora Abbiamo ancora Troppo poca Roba Ci va Con la nostra Zattera Ci va Del tempo Dobbiamo Spostarci Su altre Isole Ma Non abbiamo Ancora I soldi Allora Ragionerò Tutto E Facciamo Così Ok Io Ragazzi Come sempre Mi raccomando Tanti dei like Sotto i miei video Condividete E Aiutatemi A portare avanti Questo canale Ok Ragazzi Io Vedo Vedo Di preparare Il tutto E La prossima Il nostro Prossimo Appuntamento Vediamo Se riusciamo Magari A incominciare A costruire La nostra Casetta Ok Magari La Il pavimento Lo cambieremo Poi Vediamo Magari Ci costruiamo Già la casa Ok Ingrandiremo Anche Un po' Magari Incominceremo A farla Di paglia Poi Pian piano Ci migliorerà Adesso Vediamo Un attimino Eh ragazzi Ok Ci vediamo Alla prossima Ciao ragazzi Al prossimo Pianto